Si è svolto domenica 1 maggio al plesso Giovanni Paolo II dell'Istituto Giacomo Leopardi di Torre del Greco il campionato interprovinciale giovanile di scacchi Napoli-Caserta Under 18 con qualificazione diretta alle fasi nazionali di Terrasini in provincia di Palermo dal 3 al 9 luglio. Hanno partecipato circa 90 ragazzi dagli Under 8 fino a quelli Under 18 che si sono scontrati in sei turni in circa un'ora. Le gare sono iniziate alle 9.30 e sono terminate alle 20.30. Sono stati premiati con le coppe i primi assoluti maschile e femminile di ogni categoria e con medaglie i secondi e terzi classificati. Della nostra città sono stati premiati Fabrizio Godono, terzo assoluto juniores, terzo classificato della categoria allievi il nostro Mattia Riccio, della scuola Leopardi in prima media a Grampone Ginevra è arrivata terza. L'iniziativa organizzata dall'AS di Scacchi Torre del Greco vede grande protagonista da anni il parco Don Valerio Piro. Sono intervenuti a scuola la dirigente scolastica Olimpia Tedeschi, i rappresentanti del circolo scacchistico di Torre del Greco e la terna arbitrale nazionale.